Un intervento urgente sul lavoro nero e la richiesta del gruppo di opposizione Salerno di Tutti. Alla base dell'istanza la necessità di avviare azioni per accendere un faro sul lavoro sommerso e sulla precarietà, vere e proprie piaghe per i giovani salernitani fra i 18 e i 35 anni. Delibera sul lavoro nero, intervento urgente in materia di lavoro nero giovanile, di lavoro sommerso, delle forme contrattuali ibride e opache relative ai ragazzi e ai giovani tra i 18 e i 35 anni che rimangono a Salerno e che non hanno quasi scelta nel campo lavorativo e vivono una condizione di precarietà estesa e perenne nel settore della ristorazione, nel settore del commercio, nel settore del vestiario, in questi settori molto precarizzati a basso livello di professionalizzazione in cui la paga è negativa e c'è un alto livello di sfruttamento e un alto livello di precarizzazione. Quello che proponiamo in questa delibera è la creazione di una commissione, una commissione interistituzionale tra il comune di Salerno, la provincia, l'ispettorato e le forze preposte al controllo che facciano appunto prima di tutto una raccolta dati perché la prima cosa che manca in questo campo sono i dati, i dati relativi a questo tipo di fenomeno, i dati relativi alla presenza di giovani che appunto non sono contrattualizzati o sono contrattualizzati a metà, che sono costretti a lavorare e a scegliere una forma lavorativa che non è quella che valorizza magari le proprie competenze ma è quella che permette di arrotondare rispetto al proprio tenore di vita che si conduce, magari persone che devono anche studiare e quindi si ritrovano in una condizione di studenti lavoratori.